Signori, siamo all'otto 239, si parte da 6.500, 6.400, 6.400, 6.800, 6.800, 7.800, 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 7.800 Sergio, bisogna fare 9.000, 9.000 Eri, bisogna fare 9.2, pregio grazie, bisogna fare 9.4, 9.4 Giorgio, bisogna fare 9.6, 9.6 Elisabetta, 9.8 il prossimo, 9 pregio, bisogna fare 10, 10.000, 10.500, 10.5 Giorgio, bisogna fare 11.000, 11 è fatto, bisogna fare 11.5, 12 grazie, bisogna fare 12.5, 12.5 Sergio, 13.5 Giorgio, 13.5 il prossimo, 13.5 in sala, bisogna fare 14.000, 14 Giorgio, bisogna fare 14.5, 14.5 Sergio, 15.000, 15.5 il prossimo, 15.5 Giorgio, bisogna fare 16, 16 a telefono, bisogna fare 16.5 Giorgio, 17.000 il prossimo, 17.000 preso, bisogna fare 17.5 Giorgio, bisogna fare 18.000, 18.000 Sergio, 18.5 Giorgio, 18.5 Giorgio, bisogna fare 19.000, grazie, bisogna fare 19.5, 19.5 Giorgio, 20.000 il prossimo rilancio, 20.000, adesso si passa 21, 21.000 in sala, bisogna fare 22, 25 perché 21, 22, e ti è arrivata 22? 22 Giorgio, bisogna fare 23, 23 al telefono, bisogna fare 24 Giorgio, bisogna 25, 25 in sala, bisogna fare 26, 26 Giorgio, 27 il prossimo, siamo 26.000 euro con 27.000 al telefono, 28.000 Giorgio, bisogna fare 29.000, 29.000 al telefono, bisogna fare 30, 30 Giorgio, bisogna fare 31.000, 31.000 al telefono, bisogna fare 32, siamo 31.000, 32 per Giorgio, bisogna fare 33, 33.000 al telefono, 34 Giorgio, bisogna fare 35, 35 il telefono, 36 il prossimo rilancio, 36 Giorgio, 37 il prossimo rilancio, 36.000 con Giorgio online, 37.000, grazie, 38.000 per Giorgio, bisogna fare 39.000, 38.000 euro, 39.000 al telefono, grazie, bisogna fare 40, 40, 40.000 per Giorgio, bisogna fare 41, 41.000 al telefono, bisogna fare 42, 42, 42 per Giorgio, bisogna fare 43, 43, 43 al telefono, bisogna fare 44, 44 per Giorgio, se è un'offerta alzo la mano, 45 al telefono, 46 per Giorgio, bisogna fare 47, 47.000 euro al telefono, 48.000 per Giorgio online, bisogna fare 49.000, 49.000 al telefono, 50.000 per Giorgio online, bisogna fare 51.000. 51.000 al telefono, 51.000 al telefono, grazie, bisogna fare 52.000, siamo a 51.000 euro al telefono, per la prima, 51.000 per la seconda e 51.000 euro, complimenti aggiudicati.